Se volete tutti i veicoli delle cime, al canale di San Andreas come anche aggiungere denaro, deluxo, proprietà, veicoli costosi sul vostro account, di città online, oppure account contatti per tutte le piattaforme, prezzo di basso d'Italia in assoluto, potete contattare i cittadopati su Instagram oppure su Telegram, link in descrizione. Salve a tutti ragazzi, sono ZWheelix e oggi vi mostrerò tutte le nuove modifiche dell'Avenger come anche il terminale operativo. Parlando subito delle modifiche di Charlie, le grandi novità al riguardo sono l'aggiunta del terminale operativo che ci permette di giocare alle nuove missioni, il posto all'interno dell'Avenger per il jetpack, nuove difese quando attiviamo il pilota automatico, nuovi cannoni anteriori, posteriori e centrali, nuove mitagliatrici e nuovi lanciamissili. E ovviamente queste modifiche sono applicabili all'interno di un hangar con l'officina. La buona notizia comunque è che il terminale operativo si può aggiungere anche senza avere un'officina per l'hangar, però costa un milione e passa, quindi insomma dovete spendere almeno un milione e qualcosa per giocare le missioni del nuovo DLC, a meno che non avete GTA Plus, se avete GTA Plus è gratuito. Acquistando il posto per il jetpack, anche se non avete un jetpack, il gioco dovrebbe darvelo acquistando appunto il jetpack, poi se lo avevate già e lo avevate modificato ve lo ritroverete già personalizzato. Potete anche richiederlo direttamente dal menu inventario senza chiamare meccanico nella categoria ovviamente dell'Avenger. Riguardo le difese ce ne stanno di due tipi, quello della modalità furtiva e quello che blocca l'agganciamento dei missili automatici, il disturbatore di frequenze ovviamente funzionano solo se attivate il pilota automatico dell'Avenger. Il primo vi nasconde nel radar da tutti i giocatori, il secondo, particolarmente inutile perché comunque rimanete immobili, non vi farà agganciare dagli altri giocatori se usano armi con missili automatici. Parlando delle mitragliatrici, queste sono abbastanza scomode, poco precise e non fanno grandi danni, mentre i lanci a missile addirittura sparano ad esempio solo due colpi alla volta, poi c'è una specie di cooldown per qualche secondo. Oltretutto sono anche molto lenti e talvolta addirittura neanche arrivano al nemico correttamente. L'unica cosa decente tra tutte queste modifiche, a parte il terminale operativo e il posto per i jetpack, sono i vari cannoni che possono usare i vostri amici al suo interno tramite questi computer. Se c'è un solo amico può cambiare torrette di volta in volta. Sono molto precisi, molto potenti e ci stanno veramente, a differenza appunto delle mitragliatrici e dei lanciamissili che fanno ridere. Però insomma i cannoni vi consiglio invece di aggiungerli, specie se giocate in un gruppo, perché possono anche risultare utili pure nelle varie missioni del nuovo DLC. Riguardo il terminale operativo ci sono le missioni normali, il progetto Overtrow, che sarebbero delle missioni avviabili tramite sala d'attesa, insomma le missioni della storia di Charlie contro la Mary Weather. E poi ci stanno le operazioni Los Santos Angels, che sarebbero delle missioni ma in free mode. Quindi se avviate una di queste operazioni non dovete fare una sala d'attesa, ma partiranno direttamente dalla vostra sessione in free mode. Le missioni normali pagano di media 25.000 dollari, mentre le operazioni dai 45.000 ai 60.000, anche se sappiate che durano tanto, specie se le giocate in solo. Quindi niente ragazzi, queste sono le novità principali dell'Avenger. Io vi ringrazio in anticipo, in caso vorreste lasciare un bel pollicione in su per supportare il mio lavoro. Fatemi sapere cosa ne pensate tra i commenti. Da ZWX è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video!